Numero uno delle esibizioni, Simona, che con l'outfit di Carriera's Blasom... Oh, appena gli metti una Y con una J ma nel pallone. Ma basta, ha detto Y, non ti sballo. Eh, perché lei c'ha la lancia. Guarda, questa non ha capito a nessuno, hai lasciato perdere. Direttamente da Horizon Zero Dawn, Simona interpreta Aloy. Prima mi emarginate e ora questo. Non dovete venerarmi. Non sono la prescelta. Io non sono vostra. C'è un mondo intero oltre i vostri confini. Ci sono altre tribù di gente buona quanto voi. E sono tutte in pericolo. È un mondo per cui combattere. Non sono qui. Ovunque. Se potete combattere e volete farlo, andate a Meridiana e aspettate loro. Grazie mille, Simona. Grazie mille, Simona. Grazie mille, Simona. Grazie mille. Grazie mille.